Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi lunedì 9 maggio 2022. È un bel lunedì per noi rossoneri perché ieri sera il Milan vince 3-1 a Verona e si avvicina a quel sogno chiamato Scudetto. Mancano due partite, tecnicamente mancano quattro punti, una vittoria e un pareggio. Si deciderà insomma molto domenica prossima con il Milan impegnato in casa con l'Atalanta alle 18 e poi la sera alle 20.45 l'Inter sul campo del Cagliari. Apriamo con la Gazzetta dello Sport che naturalmente dedica l'apertura al Milan. Euforia, Milan vince di rimonta a Verona, profumo di Scudetto. Leao fa gli assist, Tonali due gol e Florenzi chiude i conti. I rossoneri tornano più due sull'Inter, Pioli dice innamorato dei miei ragazzi. I meriti del tecnico tranquillo è l'editoriale di Luigi Garlando e veramente Pioli ha tantissimi meriti in questa cavalcata che comunque andrà a finire. Sarà ricordata come entusiasmante, come la rinascita del Milan per un allenatore che veramente ha fatto un grande lavoro in queste due stagioni riportandoci in Champions League e quest'anno portandoci a due partite di fatto dal sogno di poter vincere un titolo che manca da oltre due lustri, classe e ferocia, la maturità dei nuovi simboli. Andrea Di Caro, questo è il suo editoriale, vedete le facce di Tonali che ieri ha fatto doppietta nel giorno del suo compleanno e di Raffa Leao che ha fatto doppietta di assist. Insomma è stata veramente una serata esaltante, molto difficile per il Milan ma esaltante per come si è sviluppata e per come si è conclusa. Altre notizie in giro per il mondo del calcio, questa sera si gioca Fiorentina e Roma tra Fiorentina e Roma e Spareggio per l'Europa, stasera posticipo al Franchi ed è importante in un certo senso anche per la parità di domenica prossima perché l'Atalanta è in corsa per un posto in Europa League e lo sono anche Fiorentina e Roma quindi il risultato di questa sera sarà da tenere d'occhio e da monitorare anche per noi in vista della gara di domenica prossima. Salernitana beffata, il Cagliari non molla salvezza da brividi e anche questa partita è importante per noi perché domenica, come vi dicevo domenica sera ci sarà Cagliari-Inter e Milan-Atalanta e quindi il fatto che il Cagliari sia riuscito all'ultimo secondo praticamente a trovare il gol del pareggio lo mantiene in vita, tiene vive le speranze di salvezza e se le dovranno giocare fondamentalmente domenica contro l'Inter. Ferrari festa a metà al centro, vedete la rossa, gioia a Verstappen, Leclerc resta leader, a Miami Charles secondo, anche Sainz sul podio. Bastoni indispensabile, si fa accendo naturalmente alla finale di Coppa Italia che si giocherà dopodomani, mercoledì, bastoni indispensabile, Inzaghi ha bisogno di lui per blindare la difesa, Juve in cerca di gioia, di bala e saluti ma servono i suoi colpi e vedremo un po' che cosa accadrà mercoledì. Questa è la gazzetta dello sport, andiamo a vedere il Corriere dello Sport che naturalmente apre con noi mani sullo scudetto. Milan passa a Verona per 3-1 e a 180 dal termine si riporta a più due sull'Inter. Piori torna in vetta con Aleao e Tonali, già domenica può festeggiare, effettivamente sì perché se noi dovessimo battere l'Atalanta e l'Inter non dovesse vincere con il Cagliari, già domenica sera sarebbe scudetto per noi. Faraoni illude Tudor, poi entrano in scena i due giovani talenti, il tecnico dice innamorato dei miei giocatori, prossimo turno, diavolo contro Gasp, Nerazzurri a Cagliari. A destra verso la finale di Coppa e destini incrociati di Inzaghi e di Allegri, due allenatori che hanno vissuto una stagione particolare, sicuramente più importante quella di Inzaghi, deludente quella di Allegri, la salernitana spreca e il Cagliari non si arrende. Scontro Scalvezza, 1-1 alla Recchi e poi vedete Max doma le rosse, vince Verstappen davanti alla Ferrari. E anche qui centralmente la foto di Sandro Tonali, che esulta per il grande successo di ieri, Tonali che ha trattato di gol, in realtà ne aveva fatti tre, poi il primo è stato annullato, come avrebbe detto Dino Viola, per questione di centimetri. Classifica la vedete in alto, qui si vede abbastanza bene, Milan 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, poi Lazio 62, Roma e Atalanta 59, Fiorentina 56. Ecco perché la parita di questa sera assume importanza anche per noi, in vista della gara di domenica prossima contro l'Atalanta. Questo è il Corriere dello Sport. Passiamo a tutto sport che apre con Allegri, lo leggiamo in italiano, divide e impera. Crescono i tifosi critici, non cala la solidità della panchina, la nostra inchiesta sui pro e contro di Max, infortuni il club cambia qualcosa. Pro e contro, sicuramente i pro, diciamo, l'idea che poteva starci una stagione così interlocutoria, dopo il ritorno di Allegri, contro l'ingaggio di Max. E una certa incapacità quest'anno nel far giocare la squadra, proprio farla giocare, ecco. Questa è poi a destra, vedete nella colonna a destra, 3-1 in rimonta, altro che Fatal Verona. Leao e Tonali, Milan, vola verso lo scudetto doppietta del centrocampista su due assist dell'incontenibile portoghese. Poi Florenzi la chiude contro il sorpasso in vetta, meno 4 al titolo. E infatti, vedete la classifica, Milan 80, Inter 72. Cuore Cagliari, Altar al 99esimo, Gela, Salerno. Salernitana che si sentiva già praticamente salva. Una vittoria ieri poteva significare quasi salvezza, insomma, e quasi retrocessione per il Cagliari. Invece il gol di Altar al 99esimo ha cambiato i destini di questo campionato. Al centro si fa menzione del fatto che la pazienza di Juric sta finendo per quel che riguarda la programmazione della prossima stagione. Il Toro ha perso già troppo tempo nell'impostare le strategie appunto per il prossimo campionato. Il tecnico non aspetterà all'infinito, anche perché gli stimatori sono in aumento. Cairo al bivio. Torino che ha perso sabato in casa contro il Napoli che ha blindato il terzo posto. Chiudiamo col quotidiano sportivo che è naturalmente al centro, non può che mettere i nostri ragazzi. Milan al passo del Tonali. Doppietta dell'Azzurro 3-1 Verona e torna più due in vetta. Poi a destra vedete qualche cenno alla situazione di bilancio dell'Inter. Marotta dovrà fare cassa e tagliare gli ingaggi. È una situazione che potrebbe essere anche abbastanza delicata per quel che riguarda Heiner Azzurri visto che ci sono conti da sistemare e ci sono anche situazioni da capire bene soprattutto a centro campo. Ma ultimamente anche in difesa perché l'Inter è una squadra che prende un po' troppi gol e questo potrebbe essere anche oggetto di valutazione per quel che riguarda il reparto difensivo. Chi invece gol dovrebbe farli e non li fa più è Dujan Vlaovic che non segna più nella Juve senza gioco e direi che la seconda parte spiega chiaramente la prima. E poi in basso la chiusura con C'è la Roma al Franchi e la notte che vale il passaporto per l'Europa. Probabilmente l'ultimo appello per la Fiorentina per cercare di ritornare in corsa per un posto appunto in Europa. Io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento alle 12.55 con una super puntata della Compagnia della Live per parlare di questo grande, grande, grande Milan. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.